Gentili telespettatori buona giornata, arriva il partito del generale Vannacci, ci sarebbero filtro anche uno statuto e un nome, vediamo l'indiscrezione, si fa un gran parlare appunto di una possibile nascita di una nuova formazione politica guidata da Vannacci che ha avuto alle elezioni europee oltre mezzo milione di preferenze e mezzo milione di preferenze sono già un certo numero di elettori, poi c'è anche un comitato che sta raccogliendo un tesseramento, sta tesserando le persone, quindi c'è questo movimento con il nome del generale scritto a caratteri cubitali che a cui potrebbe poi nascere un partito. Siamo ancora, scrive il tempo, alle manovre iniziali, alla valutazione di un'opportunità. Ci sarà la prima festa il 18-19 settembre del comitato Noi con Vannacci, movimento fondato dall'ex senatore della Lega Umberto Fusco e sarà una buona occasione per contarsi. C'è molto attivo anche l'ex tenente colonnello Fabio Filomeni che su Whatsapp nelle chat provannacci annuncia siamo pronti per la nuova avventura politica. Insomma, dire siamo pronti per la nuova avventura politica significa proprio dire e non dire. Secondo Repubblica il partito di Vannacci avrebbe già un nome e uno statuto. si chiamerebbe Europa sovrana e indipendente. Europa sovrana e indipendente. Il nome Europa sovrana e indipendente non mi quadra perché dal nome trapela che l'Europa è sovrana e comanda su tutti, su tutti gli stati appartenenti. Quindi non c'è il famoso slogan leghista famoso, per modo di dire, più Italia meno Europa. Europa sovrana e indipendente vuol dire che l'Europa comanda sia sugli stati da cui è formata e indipendente da qualunque altro stato o da qualunque altra entità. Quindi mi sembra un nome strano. Europa sovrana e indipendente. sembra già il nome di qualche altro partito. A me non piace per niente Europa sovrana e indipendente. Però lo dice la Repubblica, ecco. E avrebbe uno statuto e un regolamento che sono praticamente identici a statuto e regolamento del comitato Il Mondo al Contrario. Scrive sempre la Repubblica che fa riferimento a ESI, comitato politico fondato da tempo fa dallo stesso Filomeni. Allora, come molti che oggi sono politici, al politico serve un partito. Allora, è un po' come quando Conte divenne capo dei 5 Stelle. Ricevette solo quell'offerta di lavoro e la prese. Dice, o torno a fare l'avvocato di provincia o faccio il capo dei 5 Stelle. Lui avrà pensato, non me ne frega niente dei 5 Stelle. Io avrei voluto fare il capo del PD, ma questa è l'unica offerta di lavoro, la prendo ed è rimasto lì. Molti politici, quando devono entrare in Parlamento, che sia italiano e europeo, prendono quello che passa al convento. Nel senso, c'è quel partito che mi offre il seggio, di quel partito non me ne frega niente, assolutamente zero, però faccio finta di essere di quel partito, di essere sempre stato un fans di quel partito e lo uso per entrare in Parlamento. Poi dopo che sono entrato mi guardo intorno e vedo magari se riesco ad andare nel partito che ho sempre sognato. E pertanto anche il generale Vannacci potrebbe aver ragionato allo stesso modo. La Lega mi offre la possibilità di entrare in politica, di diventare un politico? Benissimo, entro in politica, divento un politico, a quel punto posso vedere di fare altro. E così Vannacci, che ha un seguito notevole in Italia, potrebbe davvero farsi il suo partito. Un suo partito che ovviamente sarebbe un partito definito di destra. Quanto potrebbe avere? Insomma, potrebbe avere, guardate, potrebbe essere un partito da minimo, minimo l'uno per cento. Se guardate che lui ha preso per esempio 500 mila preferenze alle europee, se fate il conto che gli elettori sono 46 milioni, 500 mila è poco più dell'uno per cento, giusto? Magari l'1,3 per cento. Quindi di base potrebbe non avere meno dell'1,3 per cento. Però potrebbe portare davvero via molti elettori alla Lega. Quello di Vannacci potrebbe diventare un partito del 3 per cento e la Lega dall'8 scendere al 5. Potrebbe esserci un travaso di voti dalla Lega e potrebbero esserci anche un certo numero di elettori che da Fratelli d'Italia passino a lui. Certo che lui ha detto beh, se dovessi fare un giorno un partito sicuramente sarebbe federato alla Lega. Sono cose che si dicono, diciamo. Immaginatevi che nasce un partito di Vannacci e poi portando via voti a Lega e Fratelli d'Italia e poi Vannacci che dica beh, dai sono pronto a entrare nel centrodestra con i partiti a cui ha portato via i voti. Capite che la vedo un po' dura. E poi, insomma, è una figura molto forte Vannacci. Voi vi immaginate Vannacci, Meloni, Tajani e Salvini che fanno le riunioni? Forse sì, forse no. Diciamo che Vannacci è poco politico, nel senso che lui quello che gli passa per la testa dice, mentre il politico deve essere più o meno un falsone, un ipocrita che racconta balle. Questo è l'identikit del politico. Anche oggi vi ho raccontato diverse bugie che i politici raccontano ai propri elettori e le raccontano davvero con grandissima disinvoltura. Impossibile pensare che i politici non sappiano che stanno raccontando delle bugie. Grazie a tutti e arrivederci a presto.